salve buonasera a tutti arrivo senza nessun tipo di pressione da parte del gentilissimo presidente sereno a parte le battute è anche il lato bello dell'essere qui nel senso che io prendo questa cosa esattamente come mi piace prenderla in questa città questa società questo pubblico hanno fatto belle cose per cui vanno ringraziati i giocatori repesa che ha allenato fino all'anno scorso il pubblico che è venuto ed è una cosa stimolante